Il Paradiso, Agnese e Tina potrebbero faro Milano nel finale della settima stagione. Il Paradiso delle Signore Sette va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai 1, nonché sulla piattaforma streaming Rai Play, durante i primi episodi della settima dello sceneggiato. Agnese Amato, Antonella Attili, aveva ricevuto una telefonata da Londra che la metteva al corrente della complicata gravidanza che stava attraversando la figlia Tina, Neva Leone. Senza pensarci troppo, la sarta aveva deciso di partire alla volta della Gran Bretagna per stare accanto alla cantante durante questo delicato momento. Da quel momento i fan della fiction daily non hanno più avuto notizie da parte delle due donne e ciò parrebbe aprire la porta a diverse eventualità in merito all'evoluzione di tale trama. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali, ci sono buone chance che il ritorno di Agnese sia legato a stretto giro a quello della figlia Tina. Con le due donne che si paleserebbero in quel di Milano soltanto al termine della settima stagione. Facile intuire come l'assenza della signora Amato stia pesando considerevolmente sul gruppone del compagno Armando Ferraris, Pietro Genuardi. Ma anche del figlio Salvatore, Immanuel Caserio. Rispetto al cameriere, che sembrerebbe oramai aver metabolizzato la momentanea lontananza dalla mamma. Il capo magazziniere alla lunga potrebbe soffrire sempre più la distanza dalla sua amata Agnese. A fronte di ciò, Armando potrebbe decidere di andare a Londra per riebracciare Agnese. Perché Agnese sta rimanendo così tanto tempo a Londra? Forse la sua permanenza è legata al termine della gravidanza di Tina? Queste sono soltanto due delle domande che gli autori del Paradiso delle Signore Sette stanno volutamente tenendo in sospeso. Forse per sfoderare un colpo di scena mozzafiato proprio sul finire di questo settimo capitolo. Il bandolo della matassa, secondo alcune indiscrezioni, riguarderebbe la paternità del bimbo che porta in gran botina. La cantante potrebbe scoprire che Vittorio Conti, Alessandro Tersigni, è il padre del bebè che darà alla luce. Concepimento che sarebbe avvenuto durante l'unica parentesi passionale che i due si sono concessi nella sesta stagione. Considerando che né Antonella Attiline né Valeoni hanno rilasciato recentemente interviste dove lasciavano trapelare qualche indizio su un loro eventuale ritorno. È probabile che per rivedere i loro personaggi, ovvero Agnese e Tina, al Paradiso delle Signore bisognerà attendere il finale della stagione in essere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.